crollo della diretta, devo ripartire con le notizie no, da zero, da zero siamo messi male siamo messi da panico a questo punto perché cronano anche le dirette mamma mia, ero tutto bello carico eravate anche un bel numero collegati mi tocca riniziare da zero quindi chi l'ha già visto, se vuole rivedere le riascoltiamo e le ricommentiamo insieme chi non l'ha vista invece ascolti ascolti perché ci sono notizie oggi clamorose mi dispiace, mi è crollata la diretta ho perso la linea mi è crollata la diretta capita ai migliori pensate ai peggiori notizia di oggi, perché il titolo siamo messi da panico c'è un motivo se dico siamo messi da panico perché effettivamente siamo messi da panico uranio impoverito ssos, ssos, immigrazione bonus casa tra le notizie di oggi truffa, bonus truffa bonus truffa della casa ciao Vicky, sono tornato perdonatemi ho avuto un crollo della linea incredibile, ho perso la rete il cane mi ha mangiato il modem capita, capita e andiamo a vedere che dicono i giornali di oggi appena vi rivedrò collegati vedo che siete tornati ciao a tutti perdonatemi per quelli che se ne erano già beccati metà delle notizie dovranno ribeccarsele e vorrei dire che vi offrirò il caffè quando ci vedremo ciao a tutti, ciao Marisa ciao Patrizia ciao Anna ciao Daniela ciao Vicky amici, prima cosa da fare visto che sono tornato in diretta dopo un crollo totale vi chiederei di fare una condivisione quindi fare condividi condividi per la notizia un commento e un saluto sono sempre ben accetti vi risponderò quasi uno a uno quasi uno a uno ciao Angelo ciao Tranknam nome difficilissimo da Ferrara è un nome che non lo capisco non è facile da ciao Angela cara Angela Giovanni Marisa l'Anna la Vicky la Daniela allora andiamo a vedere notizie principali velocemente perché siamo messi da panico ve lo dimostro quotidiano il fatto quotidiano uranio impoverito uranio impoverito Ucraina nuovo Iraq solo in Italia pensate 8000 militari malati post balcani voi direte per cosa? per questi proiettili che stanno inviando gli inglesi a Zelensky sono proiettili che bucono i cararmati bucono i blindati però purtroppo essendo arricchite ad uranio con dell'uranio quindi essendo fatti con dell'uranio impoverito rilasciano radiazioni che fanno venire il cancro alla gente quindi grazie a queste armi la situazione peggiorerà e Putin risponderà se utilizzate di conseguenza e sul territorio ucraino oltre alla distruzione ci saranno anche tante belle radiazioni che uccideranno e faranno venire il cancro oltre che ai soldati alla gente molto semplicemente questa è la pace voluta dai nostri leader europei quando Draghi diceva e vi lo ricordate o la pace o i condizionatori o la pace o l'escaldamento diceva una grandissima fake news perché a un anno di distanza questa è la situazione che stiamo noi occidentali e non dico noi gli occidentali dai quali io mi dissocio totalmente in questo caso l'Inghilterra inviando armi armi con una componente nucleare pensate come siamo messi bene da che siamo gestiti da gente che vuole semplicemente la morte delle persone purtroppo è la verità ed inutile negarla cambiamo quotidiano andiamo a vedere il giornale SOS immigrazione altro tema che conferma che siamo messi da panico la Nato batte Europa alleanza pronta a intervenire con un'operazione di controllo dei mari un avviso all'Unione Europea se non si sveglia e stanno dormendo in piedi rischia di abdicare Ucraina la pace di Pechino una pioggia di missili sempre peggio la proposta di Pechino di una tregua è stata bocciata dagli Stati Uniti di conseguenza da Zelensky è stata bocciata totalmente quindi si va avanti con la guerra peggiorando ulteriormente le situazioni con una pioggia di missili e addirittura l'utilizzo da parte degli occidentali di armi con una componente nucleare stendiamo un velo pietoso un velo iper pietoso cambiamo andiamo a vedere che dice il libero libero attenzione l'altro argomento che conferma che siamo messi da panico siamo come ha detto prima nella cacca più totale la sorpresina del bonus casa il conto di conte attenzione collegati maxi truffa da 12 miliardi pratiche edilizie fatte pure vi guardo in faccia vi guardo in faccia facciamo pena pratiche edilizie fatte pure dai morti e dai clochard scoperte fraudi per 3 miliardi che si sommano al buco di 9 miliardi amici non dico quello che penso per non farmi bannare ma dentro di me so benissimo come possiamo definirci noi italiani un popolo che permette queste cose permette di truffare tra parentesi ma veramente ci faccia ridere dietro dal mondo ragazzi ragazzi ci faccia ridere dietro dal mondo pratiche edilizie per truffare fatte dai morti addirittura ma come siamo messi poi sotto attenzione una smentita incredibile sulle strategie di stato i veri numeri dei morti in mare è confermato che con la Meloni solo 1,7 vittime sono troppe lo stesso lo so ogni 100 sbarcati meno di Gentiloni Conte Draghi quindi il governo di 5 stelle i governi del PD hanno fatto molto ma molto ma molto peggio a livello di morti in mare quindi tutto quello che ci stanno raccontando sono frottole sono frottole è propaganda politica della Schlein & Company del partito democratico che pensa solo a farsi dei cannoni fare dei reparti a dare in affitto gli uteri a cose indecenti cose contro la natura una cosa veramente triste cambiamo quotidiano e andiamo a capire perché siamo messi da panico e lo dico siamo messi da panico sindacati in trincea contro gli affitti brevi si stanno svegliando i sindacati dopo tre anni dormienti per tre anni dopo che hanno fatto sospendere i lavoratori li hanno fatti obbligare con degli obblighi che sta venendo fuori che hanno delle porcate assurde non hanno difeso i lavoratori le pensioni più basse di Europa gli stipendi messi da panico adesso si svegliano però dicono una cosa giusta sindacati sindaci perdonati sindaci non i sindacati i sindacati dormono ancora perdonatemi sindaci avevo letto sindacati dicevo si sono svegliati i sindacati accendiamo un cielo alla madonna no no i sindacati dormono ancora sindaci sindaci in trincea contro gli affitti brevi sarebbe ora emergenza abitativa e turismo ragazzi sono carissimi turismo non ne parliamo perché per andare in vacanza servono servono un mutuo conviene vendere la casa detto questo però andiamo sulla vita quotidiana provate a prendere un appartamento in affitto io parlo per Modena hanno dei prezzi c'è una speculazione vergognosa vergognosa più dello stipendio di una persona è una cosa vergognosa vanno affermate le speculazioni i sindaci devono imporre delle tariffe umane non dico che che un proprietario di un appartamento debba rimetterci ma neanche che debba strozzare le persone e portarle al suicidio non voglio vedere gli inquilini impiccati non è giusto l'affitto deve essere equo deve essere fine cambiamo argomento comunque siamo messi da panico guardate il tempo guardate il tempo la grande truffa dei bonus leggi che non nessun edilizia scoperti 1,7 miliardi di falsi crediti fiscali nella sola campagna gli italiani pagano il conto dei provvedimenti dei movimenti a 5 stelle fatti senza criterio governo lavoro sul rebus amici per me tra parentesi sono veramente tutti uguali uno peggio dell'altro poi Giorgia risponde a Bonelli sulla siccità Adige a secco non sono mica Mosè risposta che tu non sia Mosè Meloni lo sappiamo io comunque Meloni aspetto ancora Giorgia Meloni presidente presidentessa così contenta la Boldrini presidentessa Meloni io aspetto ancora una risposta io le ho mandato un messaggino chiedendo pubblico chiedendo che hanno condiviso in tanti il suo intervento per andare a fare una commissione di inchiesta non per parlare della gestione vergognosa che hanno fatto che lo sappiamo già che è vergognosa della pandemia ma per andare ad appurare le reazioni avverse se veramente ci sono così tante come sappiamo noi come pensiamo noi tutti e soprattutto se c'è modo di smettere di trovare una soluzione a livello medico per evitare che ne succedano altre vorremmo capire se hanno fatto o non hanno fatto male quelle cose che ci avete iniettato una commissione di inchiesta serie glielo ho chiesto pubblicamente vedremo cosa risponderà la Meloni oppure di questi dodicenni che muoiono diciassettenni che muoiono come ieri due in un giorno di infarto in classe o nel campetto da palacanestro a lei non gliene frega niente presidente Meloni vorremmo delle risposte vorrei delle risposte a nome dei cittadini grazie presidente Meloni con tutto rispetto andiamo a vedere le nomine della discordia Repubblica sui migranti premiera mani vuote nulla di fatto al consiglio dell'unione europea Salvini e i suoi ministri disertano l'aula e lasciano sola la presidente del consiglio lo scontro è su poltrone e manager la Lega vuole ottenere per sé Enel o Terna scintile con Conte che accusa Meloni di portare l'Italia verso la guerra è vero porteranno l'Italia verso la guerra io lo dico io lo dico ma ragazzi ma chi sostiene la guerra se ne rende conto che potrebbe peggiorare e che potremo al di là dell'utilizzo delle atomiche che sarebbe la fine prima delle atomiche potremmo essere obbligati potrebbero obbligare i nostri figli a partire per andare in guerra perché dopo le armi arriverà l'intervento dei nostri soldati l'avete capito o non l'avete capito quando il signor Draghi diceva oh la pace o i condizionatori ci raccontava delle cazzate in quel caso erano cazzate pure perché cazzate perché è una cazzata cioè la frase che dice o i condizionatori o la pace è una cazzata è una cazzata una cazzata fine detto quello lo dico e qui lo dico e non lo lego perché dire una cosa del genere è letteralmente una cazzata andiamo alla stampa la Meloni sfida l'Europa oggi parlo di immigranti al consiglio unè nessuno spazio per il dibattito ma Palazzo Chigi vuole imporlo la premia rimendica la linna su cutro e armi un caso all'assenza della Lega attenzione perché si spaccano sulla guerra soprattutto si stanno spaccando chiudiamo con l'ultimo quotidiano prima mi sento ruota perdonatemi intanto vediamo i vostri messaggi Rosaria Fiorella Fiorella dice non esiste nemmeno uno sono tutti da galera diretta Anna Catani dice non se ne salva uno uno ma dico uno resto c'è mamma mia che vergogna ragazzi che devo dire che devo dire Maria Venti dice salve è tutto sbagliato la magistratura silente su tutto nessuno al potere nessuno al potere vuole la verità ci stanno continuando a massacrare quello che facciamo non basta eh Mari Mary Venti Mary Venti hai ragione Mary Venti hai ragione e Sandro ciao Sandro Strabaci ciao caro come va buona giornata Robi Giusti ma dice ma ma sta non si dice Vicky Vicky stai buono Vicky stai buono lascia stare la Jeline lascia stare la Jeline che è simpatica eccola Jeline eccola oddio quando avevo di lei ho aperto la verità e me la son trovata così di fronte ragazzi io vi giuro che ho avuto subito un piccolo shock con lei messa così così che sorride sorride sempre ma la Jeline si è detta favorevole a questo proprio riguarda cosa abbiamo affittato un utero in 5 minuti la fabbrica dei bambini per conto terzi altro che atto d'amore è un business collaudatissimo tanto è vero che online si può perfezionare l'affare in un battibaleno a patto di sborsare oltre 30.000 euro la procedura inizia a Cipro e si conclude in Italia tutto garantito privatizzazione di maternità compresa signori sono contro natura queste persone fanno cose contro natura dobbiamo fermarle non possiamo permettere che facciano questi obrovi della natura sono cose contro natura affittare una donna l'utero di una donna è una cosa contro natura non esiste non esiste è una cosa vergognosa e chi dice il contrario che si tenga la sua opinione è libero di averla per me affittare un utero è una cosa contro natura affittare l'utero di una donna tanto che le donne che l'hanno affittato dopo se ne pentono e raccontano le loro storie attenzione le chat degli esperti questa è pesantissima il CTS è una mafia delle carte dell'inchiesta di Bergamo la guerra per le bande dell'organismo che in combutta con speranza ha gestito le nostre vite per due anni i vilini di Arezza e di Brusaferro che incredibilmente è ancora capo dell'istituto superiore di sanità amici sta venendo fuori tutta la verità sui vaccini e su quello che hanno fatto ho chiesto personalmente a Giorgia Meloni in un video di rispondere sulla commissione di inchiesta non una commissione di inchiesta che vada a purare quello che stanno già purando ovvero che hanno truffato con sms hanno fatto un disastro raccontato bugie bloccato la verità no io voglio sapere voglio una commissione a livello medico che vada a purare perché ci sono tutti questi malori improvvisi nei giovani ieri un 12enne e un 17enne sono morti di infarto ieri cazzo ieri ieri e non mi dicano che è tutto normale il dubbio è più che recito il dubbio ormai purtroppo non è più un dubbio voglio vogliamo il popolo vuole la verità siamo estremamente preoccupati per tutti questi malori ed è inutile negarlo chi lo nega è semplicemente un fifone o un bugiardo scegliete voi o fifoni o bugiardi quelli che negano che la situazione è un po' un po' preoccupante un po' molto preoccupante commissione di inchiesta subito e immediatamente per andare a purare se ci sono delle correlazioni serie e se c'è il modo di fermare questa moria generale che a mio parere e non solo mio purtroppo non è normale il dubbio è lecito io più che porre dei dubbi sollevare dei dubbi non posso fare anche se la verità sta venendo fuori detto questo vi saluto buona giornata a tutti la cosa è certa con questa notizia tra le armi che inviano anche nucleari tra i migranti che è SOS migranti tra la crisi delle banche che falliscono tra i ragazzi tra i valori improvvisi tra le cose gli scempi contro natura che vuole fare il PD tra la droga che vogliono legalizzare i reparti uteri in affitto e schifezze varie siamo messi da panico detto questo buona giornata